Polemiche a Casalbuono. Giuseppe Viola, guida dell'opposizione di Casalbuono, scrive al prefetto per chiedere un intervento immediato sulla convocazione dei consigli comunali. Ancora una volta, denuncia il rappresentante della lista per Casalbuono, dobbiamo confrontarci con un consiglio comunale convocato di sabato e alle prime ore del pomeriggio. Viola chiede un intervento del prefetto. Avevamo prodotto una nota con la quale si invitava il sindaco a evitare convocazioni di consiglio comunale di sabato e nelle primissime ore del pomeriggio. Eppure avendo precise rassicurazioni, continua Viola, da parte del sindaco Attilo Romano, dobbiamo lamentarci per il comportamento scorretto, irriguardoso e provocatorio da parte della maggioranza che ha riconvocato un consiglio di sabato pomeriggio. Tale comportamento, termina Viola, non ci permette di svolgere il nostro ruolo. Nella missiva, il rappresentante dell'opposizione di Casalbuono chiede al prefetto di adottare iniziative nei confronti della maggioranza.